Domenica 3 marzo al Museo Archeologico Nazionale di Ponte Cagnano si terrà il quarto appuntamento dei laboratori di Musee Eclatè Museo Senza Limiti. Il quarto appuntamento intitolato La città etrusca prevede una visita tematica che condurrà adulti e bambini a scoprire nel museo i luoghi e le testimonianze legate alla città del VI e V secolo a.C. Un'attenzione particolare sarà rivolta alle iscrizioni in lingua e alfabeto etrusco rinvenute nei corredi funerari e alle terrecotte votive offerte nei due principali santuari della città. Saranno esposte inoltre per la prima volta alcune iscrizioni etrusche incise su vasi e un corredo databile alla fine del VI secolo a.C. pertinente ad una bambina di rango elevato.